Quando non c'è energia, non c'è colore, non c'è forma, non c'è vita. Questa frase è di uno dei più grandi pittori italiani, il Caravaggio, che sottolinea il legame fra arte ed energia. Un legame sempre presente, ma spesso sotterraneo, che negli ultimi anni è stato approfondito da una serie di artisti che proprio grazie all'energia emanata da ogni corpo, creano opere d'arte dove il colore non solo è considerato in senso puramente fisico, ma nella sua essenza di luce. È il caso di Monica Melani, che a Vivo Valenza ha realizzato un'esperienza artistica collettiva con un innovativo laboratorio in cui ritrarre e far interagire in modo insolito e creativo i rappresentanti di alcune aziende del Vivo Nese. Ogni imprenditore è stato coinvolto nella produzione della propria carta d'identità fotoenergetica, in cui viene ritratto sia fisicamente che energeticamente, e in cui racconta il contributo personale e le aspirazioni relative al rilancio del suo territorio. Io cerco di far vedere quelle che sono le dinamiche dell'energia, quindi concepisco il colore come un ponte fra dimensioni visibili e invisibili. Ogni colore è un'energia specifica che lavora in certi ambiti della nostra personalità, della nostra vita, del nostro modo di essere, di emozionarci, di pensare, eccetera. Quindi è un codice che mi trasmette delle cose. Quali meccanismi si sviluppano? Beh, sono dei meccanismi messi a punto in 30 anni di ricerca nella materia fisica, però concepita non solo come un qualche cosa, appunto, semplicemente di fisico, ma di metafisico. Quindi un qualcosa che è legato al processo creativo e a tutto ciò che si genera. Gli elementi medium sono l'acqua e il colore luce, vibrazione, che sono poi i due elementi principi di ogni creazione che noi conosciamo. Senza luce e senza l'acqua non c'è vita. Otto colori, ma manca il bianco e il nero. Perché? Perché il bianco è la luce che è simboleggiata dal foglio di carta che noi abbiamo sotto, è il, diciamo, la totalità dei colori. Il nero è un non colore. Io lo considero un'assenza di energia. E quindi, siccome noi facciamo, diciamo, un discorso di dinamiche energetiche, non c'è. Però, quando l'energia della persona si è bloccata per qualche motivo, perché magari c'è stato un vissuto importante nella sua vita che non è riuscita ad elaborare, allora a quel punto i colori si addensano tutti quanti insieme e generano nero.